E' a Maresca che è tornato all'appuntamento per la montagna pistoiese con Io non rischio, la campagna di informazione che dal 2011 è dedicata ai comportamenti da tenere in caso di terremoti, realizzata nella frazione del comune di San Marcello Piteglio con uno stand allestito per una giornata dai volontari della sezione locale della pubblica assistenza in piazza a piano. L'altro anno abbiamo dovuto fare digitale, però fortunatamente quest'anno siamo ritornati in piazza e è bello perché vediamo molto l'interesse delle persone per parlare di questa prevenzione, di come prevenire il terremoto e vari comportamenti. Io non rischio, è un'iniziativa ormai storica e molto importante per la diffusione delle informazioni essenziali che servono per la protezione civile nei confronti del territorio. I ragazzi, i volontari della protezione civile, in particolare della pubblica assistenza di Maresca, l'anno scorso lo svolsero in una situazione più protetta, Covid, in versione online che fu fatta dalle scuole di Gavinana, quest'anno si è tornata nelle piazze, che è il suo posto ideale, per incontrare direttamente le persone, poche siano tante, poche, ma durante il giorno tutti quelli che passano, possono trovare delle informazioni adeguate e gli spunti importanti che servono nelle situazioni di rischio. La sensibilizzazione è importante, ovviamente l'amministrazione comunale c'è al fianco di chi la fa e come c'è quando purtroppo capitano le situazioni di emergenza. Negli ultimi due anni abbiamo avuto un rapporto molto particolare, molto intenso, ma per motivi noti, ancora più del normale, con la protezione civile, quindi il percorso che facciamo, lo facciamo insieme. Ma lì dove si rompe gli specchi, che vuol dire? Ti sta attenti a vedere, ti riesco a pensare.